Salve a tutti, sono la professoressa Fattori e sono una docente del Polo 3 di Fano e sono qui a illustrare uno degli istituti del Polo 3 di Fano, l'Istituto Tecnico Economico Battisti. Il nostro istituto è conosciuto diciamo più storicamente con il nome delle commerciali, le commerciali di Fano, diciamo il Battisti. Il nostro istituto è organizzato su una settimana corta, che significa che le lezioni vanno dal lunedì al venerdì e inoltre è articolato su tre indirizzi. Il nostro istituto ha come obiettivo più importante e più ambizioso quello di poter far permettere ai nostri alunni di costruirsi un curriculum molto personalizzato e questo grazie ad alcune opportunità che il nostro istituto offre. Per meglio illustrare le opportunità appunto che possiamo dare come istituto tecnico economico abbiamo scelto tre concetti caratterizzanti. Il primo è proprio le opportunità di scelta, il secondo è la concretezza del sapere e il terzo è lo sguardo verso il futuro. Dunque le opportunità di scelta perché? Perché al tecnico economico Battisti i ragazzi quando si iscrivono non devono scegliere subito l'indirizzo ma soltanto la possibilità di frequentare attraverso una didattica digitale o una didattica tradizionale. Solo in terza potranno andare a scegliere uno dei tre indirizzi amministrazione finanza e marketing, l'indirizzo informatico oppure l'indirizzo turistico. Nel pomeriggio poi il nostro istituto organizza tantissimi corsi che possono frequentare i ragazzi e possono scegliere tra i corsi sportivi, i corsi che permettono per esempio di ottenere il patentino da bagnino oppure quelli di certificazione linguistica e anche di informatica e possono anche poter frequentare dei corsi che danno l'opportunità di fare degli approfondimenti nelle materie curricolari. La concretezza del sapere è un altro concetto importante del nostro istituto ed è quello che fa riferimento al tipo di discipline che vengono studiate nel nostro istituto. Le discipline più importanti che caratterizzano il nostro istituto sono economia politica, diritto, informatica, economia aziendale, l'informatica appunto, le lingue, le lingue strassiniere sono quattro, francese, spagnolo, tedesco, inglese. Tutte queste discipline sono discipline che sono il cuore pulsante della nostra società che permettono diciamo alla nostra vita di essere organizzata e di andare avanti e queste discipline vengono studiate nel nostro istituto sia in modo teorico ma anche in modo concreto, nel modo diciamo che può essere poi finalizzato subito concretamente nel mondo del lavoro. L'ultimo concetto caratterizzante del nostro istituto è lo sguardo al futuro. Lo sguardo al futuro perché il nostro istituto è storico, è cento anni che diciamo forma figure importanti del nostro tessuto sociale e queste figure però sono cambiate nel tempo e per aderire ai cambiamenti della società il nostro istituto si è evoluto nel tempo, ha cambiato i propri indirizzi e pur mantenendo però la propria identità. Quindi riesce a diplomare come ragionieri i nostri ragazzi pur specializzandoli in indirizzi nuovi come il marketing, come il turismo, come l'informatica attraverso anche dei nuovi strumenti come i tablet, la didattica digitale, come le lavagne digitali che abbiamo in tutte le aule, come per esempio mandandoli all'alternanza scuola lavoro nelle aziende all'estero. Ecco, tutti questi strumenti ci permettono di aderire al nostro territorio e alla nostra nuova società. Quindi attraverso tutto questo che ho appena elencato e tutte altre cose che il nostro istituto propone tutti noi docenti e la dirigente dell'Istituto Tecnico Economico Battisti accompagnano i propri alunni verso il loro futuro di donne e uomini nella società umana. Grazie.